Nelle Marche la vaccinazione prosegue a ritmi serrati che permettono alla regione di rimanere in testa per la copertura. D'altra parte però aumentano i positivi al coronavirus e i ricoveri negli ospedali. Un fattore è questo che ha comportato la sospensione di alcune attività programmate per poter adibire medici, anestesisti e infermieri alle terapie intensive e semi-intensive. Lo ha spiegato con un post pubblicato su Facebook l'assessore alla sanità Filippo Saltamartini che ha elencato i dati alquanto preoccupanti. L'occupazione dei posti letto in terapia intensiva fa sapere l'assessore ha superato da giorni la soglia critica del 30%, come pure l'occupazione dei posti in area medica che dovrebbe essere al 40% e invece supera il 50%. Sul fronte delle vaccinazioni è rilevante l'impegno di tutto il personale sanitario, dei volontari e della protezione civile. Le Marche infatti figurano tra le regioni più produttive nella somministrazione e abbiamo una potenza di inoculazione, e prosegue Saltamartini, che ancora non può essere sfruttata per mancanza di vaccini. In questi giorni però è aumentato il numero delle persone più fragili vaccinate negli ospedali, dializzati, trapiantati o in attesa di trapianto. Si tratta di oltre 117.000 persone, mentre il target complessivo di coloro che hanno patologie, ma devono ricevere il siero, è di oltre 271.000. Questo significa che se nel mese di marzo è previsto una fornitura di 101.000 dosi di vaccini Pfizer e Moderna, si dovrà attendere aprile e maggio per vaccinare questa ampia fascia della popolazione fragile. La provvista di marzo coprirà una parte delle persone con più di 80 anni, sono 133.000, e una parte degli estremamente vulnerabili. Raccontare i fatti e dire la verità serve per essere consapevoli del periodo che stiamo vivendo, ha proseguito l'assessore, che ha rinnovato la richiesta al governo di avviare al più presto investimenti per la produzione dei farmaci, tra cui gli anticorpi monoclonali in Italia. Ad intervenire sul tema sanitario oggi è stato anche il vicepresidente della regione, Mirko Carloni, che esattamente un anno fa, il 10 marzo, era al pronto soccorso per una febbre leggera e tosse secca. Da lì a poco avrebbe scoperto di avere il Covid-19, lo ha ricordato oggi sui social network. «Ho visto in quelle stanze quanta gente ha patito questa malattia più di me lasciandoci la pelle», ha scritto in un post. «Oggi inizia la prova più dura perché si ritorna alla zona rossa. Mai pensavo di riviverla. La differenza da allora è che i nostri ospedali stanno funzionando e tra poche settimane arriveranno molte dosi di vaccino e la regione Marche sarà pronta tramite i medici di famiglia, la rete sanitaria e le associazioni private a fare la più grande operazione di vaccinazione della storia moderna. Quello che possiamo fare, ha proseguito, è tenere gli ospedali funzionanti per chi sta male e avere adeguatezza di cure domiciliari anche con i farmaci che un anno fa purtroppo non c'erano. «Se invece delle primule fossero arrivati i vaccini sarebbe stato meglio», ha commentato Carloni. «Andiamo avanti e combattiamo questa ultima sfida». Intanto il governatore Francesco Acquaroli spera di poter annunciare buone notizie nel fine settimana. La regione sta monitorando giorno per giorno l'andamento della curva epidemiologica visto l'aumento di contagi legato alla variante inglese. Nelle ultime 24 ore è stato registrato un alto numero di casi, 881 positivi al virus di cui 358 in provincia di Ancona, seguita da Macerati e da Pesaro Urbino. Nei giorni scorsi, infine, c'è stato un forte aumento in alcuni territori ma non su Ascoli dove è stata riscontrata, al contrario, una decrescita. Oggi, ricorda Acquaroli, abbiamo 4 province su 5 in zona rossa e credo che potremo essere confermati in zona arancione anche la prossima settimana.